Una luce accesa sulla rinascita, una volontà di nuovo e nuovamente di ricordare come un elemento come la musica possa essere un elemento di unione, un elemento di trainante per quello che è un'iniziativa di grande solidarietà rivolta a quelli che sono le vittime del ponte. Quindi devo ringraziare in modo particolare tutti gli organizzatori che hanno avuto l'idea di questo evento che di nuovo rafforza l'idea di come noi genovesi possiamo essere solidari, possiamo essere coesi in un momento di quello che è stato di grande difficoltà. Siamo stati invitati da Stefano Torracchi della Fossati Project Band per questo importante concerto che avviene 15 giorni prima della data della tragedia del Ponte Morandi e soprattutto a Cornigliano, un fortissimo segnale, Villa Bombrini, molto molto vicini al luogo della tragedia. Cercheremo di stemperare, cercheremo di fare quello che deve fare la musica, ovvero di divertire il pubblico non dimenticando e dedicando la serata alle vittime del crollo del Ponte Morandi e alle finalità benefiche di questa manifestazione. Ci saremo noi, Bitnik, la Fossati Project Band e Piero Cassano, il fondatore di Amatia Vazzaro.